Signori, l'Ugiatese Basket con il suo nuovo allenatore, Mattia Di Lorenzo Ma hai diventato allenatore o gioco? Allenatore Perché? Beh Signori, urlo molto convinto Ecco più a voi in studio, i miei colleghi Benvenuti allo stadio Luigi Ferraris Ferraris di Genoa da Fabio Caressa e Beppe Pergoli E' un amico di Fabio Caressa Sì ragazzi, comunque siamo qui Fabio Questa sarà secondo me una grande partita Perché? Eh però ve l'ho dita al coccia Ma perché ti devi drogare? Dai, su, vai Ammirate Mattia con che maestria Da ordine in panchina Zoomiamo lì addosso No, si rompe la macchina Dai, che brutto è Non farci questo Signori No dai, Ricky Ricordami il finale di quella storia del giro Signore, l'arbitro con il nome Bigolo E lo chiederemo Bigolo Guardate il 18 Ammirate la sexy del 18 No, mi devo stare in piedi No, si Aspetta Ammirate il sexy del 18 Signori Salterà l'Ale Capitano contro il 13 Avversario Ottima difesa signori Da parte dell'Uruk Il capitano è ancora calmo Non ha fatto ancora i suoi atti di scuola No, si Signori grande fava, il capitano Bach è un bel lottatore Signori Mattia ha la vera stoffa da allenatore Io ve lo posso anche dire perché è anche il mio E modestamente è uno dei migliori allenatori che abbiamo visto insieme a Zazza Zazza in questo momento sta facendo il reperto Fa piedino concorrato Grande bubù signori, grande bubù signori ed è fuori Grande bubù Che bello il bubù, ma se non mi ha sorriso Qu'equipo stanno, questo è una macchina dice Qu'è il bubù? Qu'è il bubù? Qu'è il bubù? anche loro usano una difesa numerata per ora niente movimenti strani brutto tiro signori, forse peggio del mio grande school bus anche le torate No, 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 no.